Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano c'è un importante accordo siglato stamattina in prefettura a Udine tra la prefettura stessa e le Caritas di Udine e Pordenone per una serie di iniziative a favore delle famiglie più bisognose. Sono tanti i casi, sempre di più negli ultimi mesi, di situazioni di disagio, di difficoltà anche alla luce del caro bollette, del caro energia. E allora siamo pronti a collegarci dall'esterno della prefettura di Udine con Francesco Colussi per farci raccontare i termini di questo accordo e a che cosa potrà portare. Buongiorno Francesco, a te la linea. Buongiorno a te David, sì mi trovo qui fuori dalla prefettura di Udine dove è stato appena siglato questo accordo di protocollo d'intesa tra la Caritas di Pordenone e Concordia, la Caritas di Udine, Fondazione Friuli e le prefetture di Udine e Pordenone. presenti anche appunto sia il prefetto di Pordenone che il prefetto di Udine. Questo è un'intesa che punta ad aiutare le famiglie più indigenti, le famiglie più bisognose e per far fronte alle esigenze primarie ovviamente, di fronte al caro vita dell'ultimo periodo, ma anche in una sorta di accompagnamento cercando di guidarle nella gestione migliore possibile del proprio bilancio familiare, delle proprie risorse. Questo ovviamente non verrà fatto in tutti i casi, ma ecco questa è anche una cosa in più, ovviamente Fondazione Friuli finanzierà l'operazione e noi possiamo andare secondo me a sentire subito due esponenti della Caritas che abbiamo intervistato sull'argomento. Comincerei da Andrea Baracchino, direttore della Caritas di Concordia a Pordenone, per poi passare a Don Luigi Gloazzi della Caritas di Udine che si è soffermato sulla situazione del dormitorio proprio della Caritas in via Prachiuso. L'intesa vuole sostenere e segnare il sostegno da parte della Fondazione Friuli attraverso la rete delle Caritas a quelle famiglie che si trovano a vivere in seguito all'incremento dei costi dell'energia, ma anche all'incremento dei costi dell'inflazione, spese più alte di conseguenza incidere su quello che è appunto il bilancio familiare. E per questo nell'intesa le Caritas della Diocesi di Pordenone e della Diocesi di Udine si impegnano attraverso la propria rete a mettere a disposizione volontari al fine di dare aiuti concreti che possono andare dal contributo all'attività del microcredito e anche a piccoli segni e sostegni che aiutino le famiglie a capire quella che è l'importanza anche del risparmio e di un consumo consapevole dell'energia. Allora il dormitorio che noi chiamiamo Fogolar proprio perché intendiamo che non ci sia solamente un tetto, un alloggio, ma che sia un luogo dove ricreare relazioni attraverso gli operatori che sono dipendenti della Caritas ma anche volontari, quindi tutto quello che aiuta le persone a ristabilire rapporti sono nella logica del dormitorio che ha attualmente 20 persone, 20 maschi e 3 donne evidentemente separati ed è pieno, quindi è ogni anno che durante l'inverno si danno queste situazioni ed è per questo che noi non ci meravigliamo di quello che avviene, siamo sempre attenti attraverso un servizio quotidiano tutti i giorni dell'anno proprio per accogliere le persone che noi speriamo sempre che trovino poi una strada di uscita. Sì, è anche intervenuto a questo protocollo d'intesa, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, ovviamente anche il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello a cui abbiamo chiesto anche un aggiornamento sulla situazione del carcere di Udine, del carcere di Via Spalato, la Caverzerani anche alla luce delle nuovi flussi di migranti collegati alla guerra in Ucraina. Io lancierei il servizio e vi restituisco la linea. C'è un aggiornamento sulla Caverzerani, un aggiornamento sulla situazione del carcere? La Caverzerani per ora è tranquilla, lo possiamo dire perché ovviamente le emergenze si rincorrono continuamente adesso ci sarà probabilmente l'emergenza ucranica che rischia di ritornare nel nostro territorio però la situazione della Caverzerani è stabile perché non abbiamo più ultimamente rintracci importanti. E come i numeri? Per la Caverzerani ci attestiamo sotto i 600 che è un numero di sufficienza ma che ci permette comunque di gestire adeguatamente i servizi. A proposito di gestione dei migranti ce ne occuperemo nella trasmissione di domani dell'agenda a cura di Alberto Terasso con una serie di reportage dei punti caldi della regione da Trieste, da Gorizia e da Gradisca di Zonzo. In particolare a Gradisca di Zonzo la situazione continua a rimanere molto preoccupante con circa 50-60 richiedenti asilo che quotidianamente si presentano a chiedere alloggio e rifugio nella città della provincia di Gorizia e con Francesca Santoro siamo andati ad ascoltare anche la voce del rappresentante del sindacato dei Carabinieri Unarma che in prima persona si occupa appunto di dare degli alloggi di fortuna molto spesso anche con delle tende allestite per strada. A Gradisca di Zonzo la caserma dei Carabinieri si è trovata travolta dalle richieste di persone arrivate per entrare al CARA. Com'è andata? Allora è andata male e bene. È andata male perché una struttura che chiaramente non è deputata a fare polizia di frontiera qual è una stazione dei Carabinieri si è ritrovata da maggio di quest'anno quindi ormai sono passati già diversi mesi con un afflusso improvviso ed imprevisto di 30-50 migranti, quasi tutti pakistani, che ogni mattina alle 7 grossomodo venivano in caserma e bussavano chiedendo asilo, chiedendo aiuto e in qualche modo si è cercato di sopperire ma con grosse difficoltà dovute alla logistica della caserma assolutamente inadatta per questo tipo di attività la mancanza di interpreti, di mediatori, di qualsiasi cosa. Di fatto qual è la situazione numerica dei richiedenti asilo adesso a Gradisca? A Gradisca diciamo che ancora abbiamo tra i 50 e i 60 ragazzi che dovrebbero trovare una collocazione quindi all'interno del CARA o di un'altra struttura. Questo fermo restando l'interruzione dell'afflusso cioè che non ne arrivino altri perché è chiaro che in qualsiasi momento potrebbe riprendere l'affluenza e quindi saremmo punti da capo. Questi 50-60 che le dico nel frattempo bivaccano nei parchi cittadini. Il CARA sta esplodendo nel frattempo? Il CARA devo dire con un grandissimo sacrificio sta cercando di sopperire ma è al triplo della sua capienza prevista. Siamo chiaramente in una situazione climatica che sta rapidamente avvolgendo all'inverno pieno quindi alloggiare in tende senza riscaldamento, senza impianto elettrico diventa difficile e comunque insistiamo su una cittadina con una popolazione di poco più di 5.000 abitanti. Di questi 5.000 abitanti avere quasi 700 persone che incidono su una realtà così piccola crea indubbiamente qualche criticità non solo di ordine pubblico ma anche criticità proprio di capacità del territorio di riuscire a ricevere numeri così importanti. E dalla situazione di Gradisca ora ci proiettiamo a livello internazionale per raccontarvi quello che sta accadendo in Cina dagli occhi di un friulano che lì vive e lavora. Siamo in collegamento Skype con Jacopo Luci che è membro del Fogolar Furlan di Shanghai in Cina che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità e a lui chiediamo dunque di raccontarci quello che sta accadendo nel paese con queste proteste per la politica zero covid del governo di Xi Jinping che ha portato tanti giovani in piazza naturalmente con scontri anche con le forze dell'ordine. Buona giornata e buonanotte per quanto ti riguarda Jacopo, ben ritrovato. Buongiorno, ciao a tutti. Dunque, anche a Shanghai si stanno vivendo giornate di protesta come abbiamo visto in molte altre città della Cina. Sì, abbiamo avuto queste proteste che sono inusuali per noi qua in Cina sabato, domenica e anche diciamo lunedì proteste per questo continuo covid zero che la Cina non vuole lasciare, non vuole abbandonare quindi la gente comincia ad essere veramente stanca, nervosa, stufa e queste rivolte sono anche nate dopo queste dieci persone che sono morte all'interno delle loro abitazioni che non sono state raggiunte in tempo dai vigili del fuoco perché ovviamente tutte queste abitazioni erano chiuse da gabbie che loro usano per arginare questo covid e quindi domenica sono nate queste rivolte un po' in tutte le città cinesi. Rivolte che da quello che si sente continueranno, la repressione è stata forte da parte della polizia? Le rivolte continuano sì, il problema è che qua in Cina non si viene a sapere la verità e le persone spariscono, i moments di WeChat che è la piattaforma che noi usiamo qua in Cina come diciamo Instagram vengono tutti bloccati immediatamente, ci sono account anche di amici stranieri che sono stati bloccati quindi non possono venire più utilizzati qua il WeChat in Cina serve per appunto anche scannerizzare il codice verde per poter entrare nei locali serve per pagare, serve per vivere e quindi diventa un problema non da poco adesso vediamo cosa la Cina ha in servo per noi però comincia davvero a diventare pesante soprattutto perché ci sono regioni che sono in lockdown da sei mesi, tre mesi e non c'è una luce alla fine di questo disastro che stiamo vivendo durante questo anno. E si immagina sia davvero proprio difficile vivere quotidiano, potersi spostare per lavoro anche per i semplici acquisti, ecco tu come la stai vivendo in prima persona? Io la sto vivendo, ha incominciato ad essere davvero dura perché per dire il codice per entrare nei ristoranti o nelle palestre o negli uffici viene scannerizzato 20-30 volte al giorno dipende quanto uno è attivo, i test vengono fatti alla fine una volta ogni due giorni ed è già un anno che facciamo test ogni due giorni e non ne usciamo fuori quindi non si può viaggiare semplicemente come prima, io se rientro a Shanghai devo fare cinque giorni in cui non posso andare in palestra non posso andare al supermercato, posso solo andare in ufficio, prendere la metro e la bicicletta e nient'altro quindi dopo un anno, incluso il lockdown, diventa veramente difficile vivere in questa situazione difatti io sto pensando anch'io di andarmene come tanti altri e vediamo dopo il capodanno cinese cosa succede E rientrare quindi in Europa probabilmente? Sì, perché non è il modo di vivere, anche perché invece di migliorare, vedere una luce qua stiamo vedendo davvero le cose che si stanno peggiorando di giorno in giorno Un ultimo flash per quello che ci puoi dire, per quello che si percepisce vivendo lì alcuni vedono in queste proteste anche una situazione di difficoltà interna al partito comunista cinese dei rapporti di forza proprio all'interno dello stesso partito e di questa ipotetica affronta nei confronti di Xi Jinping, c'è anche questo sotto oppure sono solo illazioni? No, no, c'è ovviamente anche questo perché ovviamente loro lo vedono come il capo e quindi questi problemi sono dovuti alle sue idee di questo Covid-0 è tutta una reazione a catena e loro ovviamente adesso soprattutto i giovani vedono il responsabile di tutto ciò in lui quindi il non poter viaggiare, il fare i test ogni giorno, il lockdown continuo, le persone che muoiono tutto questo viene attribuito a lui quindi da tempo che io non vedo una cosa così forte anche nella gioventù grazie, grazie davvero Jacopo per questa testimonianza sentita si percepisce dalla tua voce e dalle tue parole che è davvero difficile vivere in questo periodo a Shanghai così come in altre città cinesi e naturalmente in bocca al lupo e ci risentiremo presto A presto, ciao Grazie Grazie a Jacopo Luci del Fogolar Furlan di Shanghai per questa testimonianza noi rientriamo in regione e continuando con la cronaca con un giovane di 36 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto poco prima delle 23.30 di ieri in una fabbrica che sorge nella zona dell'autoporto di Gorizia per cose in corso di accertamento il giovane è rimasto schiacciato al torace da una pressa sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza l'hanno trasferito al San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine una serie di incidenti anche nel territorio della destra a tagliamento nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti fra Vria Brugnere e via Palmanova a Fontana Fredda per uno scontro tra due auto quattro le persone coinvolte di cui tre leggermente contuse uscite autonomamente dai veicoli ed una ferita in modo più serio immobilizzata nell'abitacolo che è stata poi trasferita in ospedale a Pordenone altro violento frontale anche a Porcia due auto si sono scontrate in via Pont Freit la ferita è una donna che è stata assistita dal personale del 118 e trasferita in codice giallo sempre all'ospedale di Pordenone ora la pagina economica con notizie importanti che riguardano l'avvertenza Varsila le attività dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra proseguiranno fino al 30 settembre 2023 e dentro questa data l'azienda si impegna a non riattivare alcuna procedura di licenziamento collettivo contestualmente viene avviato un percorso di reindustrializzazione del sito con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro sia dei dipendenti Varsila sia quelli dell'indotto un risultato per il quale ringraziamo il ministero delle imprese del Made in Italy che ha convocato su richiesta della regione il tavolo di crisi e in particolare il sottosegratario Bergamotto per la disponibilità e l'attenzione dimostrata su questo tema così l'assessore regionale a lavoro Alessia Rosolen dopo la sigla del verbale d'accordo avvenuta a tardanotte nell'ambito del tavolo di crisi avviato sullo stabilimento triestino tra Varsila Italia le sigle sindacali, la Confindustria Alto Adriatico la regione Frui Venezia Giulia e il ministero delle imprese Rosolen ha chiarito che per la regione era fondamentale che l'accordo tracciasse un quadro di garanzia a difesa dei dipendenti sia di uno stabilimento strategico per lo sviluppo del Frui Venezia Giulia e del paese in modo da avviare un percorso condiviso che porti alla reindustrializzazione del sito di Bagnoli e l'accordo prevede anche come obiettivo comune la garanzia della vocazione industriale e dello stesso stabilimento da parte dei sindacati arrivano le prime reazioni dopo una manifestazione con 15.000 persone in piazza una mobilitazione straordinaria e continua da parte dei lavoratori per difendere i posti di lavoro ci sarebbe sembrato normale e doveroso che un qualsiasi accordo da sottoscrivere con Varsila Italia contenesse a chiare lettere la garanzia della salvaguardia totale dei posti di lavoro ha dichiarato il rappresentante nazionale dell'esecutivo USB Sasha Colauti il quale poi ha aggiunto invece non è nient'altro che lascia passare garantito all'azienda per l'uscita immediata dei motori, delle forniture e la conseguente chiusura della produzione quindi prime reazioni negative a questo accordo rimaniamo a Trieste ma per una prospettiva che interessa all'intero Frui Venezia Giulia sul fronte del trasporto ferroviario perché partirà a gennaio e collegherà il porto di Trieste con l'interporto di Furnitz in Carinzia il primo e unico corridoio doganale internazionale europeo i container in arrivo potranno essere caricati direttamente dalla nave al treno cargo e prendere la strada del nord e centro Europa senza controlli doganali che verranno effettuati successivamente all'arrivo in Austria un vantaggio importante per la merce che viaggerà più velocemente e con un alleggerimento anche delle procedure amministrative che consentiranno di aumentare l'intermodalità mare e ferro resteranno in capo al porto di Trieste invece i controlli di sicurezza e quelli obbligatori per esempio riferiti ai controlli sanitari i dettagli della collaborazione tra OBB le ferrovii astriache attraverso la filiale operativa Rail Cargo Group l'autorità del sistema portuale del mare Adriatico sono stati anticipati in un incontro a Villac a cui hanno preso parte vari ospiti tra cui il presidente del porto di Trieste Zeno D'Agostino e a suggerare l'importanza della collaborazione domani a Vienna al palazzo d'inverno del principe Eugenio sarà organizzata la cerimonia di firma degli accordi tra i vari partner sul fronte edilizio invece tornano a protestare i costruttori del lance per quanto riguarda la riduzione del super bonus del 110% la stretta sul super bonus voluta dal governo per fermare il vortice speculativo nel quale è finito il settore edilizio non va giù alle imprese costruttrici rappresentate dal lance che col passaggio dell'agevolazione dal 110% al 90% paventa nel 2023 un rallentamento degli investimenti mentre le banche rappresentate dall'ABI considerano non risolutiva la soluzione di una rateizzazione dei crediti in dieci anni dai precedenti cinque diversi emendamenti al decreto legge aiuti quater puntano a prorogare almeno al 31 dicembre il termine già scaduto del 25 novembre entro il quale i condomini avrebbero dovuto presentare la CILAS ovvero la CILAS specifica per i lavori in super bonus e rientrare così nel rimborso dei lavori al 110% agevolazione che dal 1 gennaio scende al 90% la proroga più probabile dovrebbe essere al 31 dicembre ma non si esclude uno sforamento fino al 31 gennaio il problema maggiore resta l'irrisolto nodo dei crediti d'imposta legati al super bonus e incagliati presso gli intermediari finanziari la soluzione sintetizzata in un emendamento che dovrebbe essere presentato alla Forza Italia permetterebbe alle banche e alle poste di trattenere i versamenti IRPEF dei comuni contribuenti e usarli in compensazione dei crediti generati dal super bonus fornendo così la liquidità necessaria alle aziende in consiglio regionale continua il varo della legge di bilancio con i vari argomenti trattati nelle singole commissioni competenti ieri c'è stata l'approvazione nella quarta commissione presieduta da Mara Piccin per la competenza relativa agli strumenti sull'ambiente presentati dall'assessore regionale all'energia e allo sviluppo sostenibile Fabio Scocci Marro per quanto riguarda invece la sanità la manovra prevedrà 113 milioni in più per il sistema regionale andiamo ad ascoltare anche le voci dei consiglieri ma credo che le misure proposte dalla giunta si possono migliorare sotto diversi aspetti in questo momento le famiglie sono colpite da una forte inflazione e quindi c'è la necessità di destinare più risorse al sociale per esempio per contenere gli aumenti delle rette delle case di riposo mettere i servizi sociali dei comuni di aiutare le persone più bisognose serve un'attenzione particolare anche per contenere i costi energetici delle aziende sanitarie, delle strutture ospedaliere con investimenti che favoriscano la riduzione dei consumi energetici e quindi anche della bolletta che al momento diciamo non sono stati in grado di quantificare l'assessore e la sua struttura e riteniamo soprattutto, viste le difficoltà che sta vivendo il nostro sistema sanitario regionale che sia indispensabile destinare maggiori risorse per arginare la fuga di dipendenti dagli ospedali e aumentare, migliorare la formazione per favorire il raperimento di nuove figure professionali Posso dire che la manovra che è stata oggi approvata in terza commissione è una manovra per quanto riguarda la sanità che va a affrontare i problemi va a dare nuove risorse e porta la Regione Friuli come mi è già stato evidenziato al Forum Risk Management di Arezzo martedì ad essere una delle regioni che meglio affronta le problematiche sulla sanità e dà risposte alle richieste dei cittadini Non mancano sicuramente risorse per quanto riguarda la spesa corrente e gli investimenti in sanità abbiamo però un colossale problema di gestione della sanità pensiamo che siamo ultimi per spesa pro capita e in prevenzione i sindacati ci dicono che mancano le risorse per pagare gli straordinari dei dipendenti e pensiamo quanto sono sotto pressione i pronto soccorsi ma anche dal punto di vista amministrativo aspettiamo da 5 anni un regolamento per la riconversione delle sale con le slot e questa giunta non è ancora stata capace o non ha avuto la volontà di fare questo regolamento Ora è tempo di sport e ci aspetta dalla Dacia Arena Stefano Giovampietro per il consueto punto di giornata Buongiorno Eh sì, ancora qui dalla Dacia Arena Ciao Davide per fare il punto come dici tu sullo sport in generale perché è un mercoledì ricco di tanti argomenti però è inevitabile partire come al solito dall'Udinese un Udinese che continua il suo percorso di lavoro sempre in maniera molto ancora blanda così la chiamiamo sempre con allenamenti mattutini che vogliono ricondizionare un po' tutto il gruppo sicuramente è un sottile che sta anche temporeggiando per capire quelle che sono le condizioni di giocatori infortunati quelli noti che abbiamo visto e nominato in lungo e in largo oggi Pecao, Marchengo, lo stesso De Rofeu così come Nuitink e il lungo del Gente Masina però ci sono anche giocatori che devono ritrovare la forma migliore ieri abbiamo visto per esempio durante la partitella a ranghi misti con la primavera tanti elementi della primavera questo va riconosciuto c'era per esempio Erzlan che faceva una seduta individuale per trovare la migliore condizione se vogliamo il turco di origini tedesche era stato uno dei più appannati nel finale dell'Udinese che aveva stentato dal punto di vista dei risultati quindi c'è bisogno di rinfrescare un po' tutte le energie per questo ancora allenamenti tutto sommato tranquilli anche se si comincia a vedere sempre di più il pallone che diventerà protagonista poi nelle settimane successive quando inizieranno anche ad esserci dei test amichevoli oltre a quello già ufficializzato di cui c'è grande attesa contro l'Atletic Bilbao il 17 dicembre questo per quanto riguarda l'Udinese che come detto si sta praticamente allenando tuttora sta finendo la seduta adesso e si allenerà anche domani di mattina questo pomeriggio invece giocherà il Pordenone occhi puntati sul Teghil di Lignano-Sabbiadoro perché c'è la sfida tra Pordenone e Propatria squadra nona in classifica il Pordenone reduce dal 2-2 contro la Pro Sesto comunque ha dato continuità dei risultati anche se ha interrotto questo periodo di imbattibilità a livello anche di reti subite deve vincere il Pordenone perché vuole continuare a sognare la promozione diretta e perché deve sfruttare una partita concomitante molto delicata tra Lecco e Renate che sono due delle tre inseguitrici a quota 27 di questo di tanto altro ha parlato Mimmo Di Carlo nella conferenza pre-partita che andiamo a sentire insieme come tutte le gare sempre sono gare da prendere nel modo giusto noi vogliamo fare una partita tosta dobbiamo fare una partita molto di ritmo alto dobbiamo essere aggressivi bisogna giocare molto sulle fasce perché se dovessero chiudersi quella propata dobbiamo essere bravi ad aprirli un po' di più e poi cercare di andare dentro ma quello che conta domani è che vogliamo ritornare alla vittoria e dobbiamo ritornarci facendo solo una partita assolutamente tosta da Pordenone siamo sempre alle solite abbiamo fatto una buona gara hanno subito solo, ho visto all'inizio poi sono molti fuori è una squadra che molto in avanti sono rapidi e veloci dietro sono molto fisici come ogni partita in Srecie ci sono squadre che sanno chiudere spazi e ripartire bene poi hanno due quindi che hanno una buona tecnica che conta come si va con la testa e con l'atteggiamento che quello che deve essere il Pordenone deve andarci in campo con la giusta mentalità l'atteggiamento giusto ma soprattutto dobbiamo essere tosti e tornare ai tre punti attraverso la nostra filosofia di gioco che è quella di aggressiva di gioco e di profondità vediamo oggi abbiamo un allenamento ancora a disposizione sicuramente se tutti stanno bene a che mi fa piacere perché comunque posso scegliere l'importante è che tutti stiano bene però quello che conta è che Delis ha recuperato Palombi ha recuperato che sono andate due giocatori importanti Pirrell ha recuperato e quindi alziamo la qualità della squadra alziamo la qualità del gioco e soprattutto anche delle istituzioni e quando si devono cambiare le partite aggiornamenti live di tutto questo li daremo durante pomeriggio calcio poi nella pagina sportiva del TG questa sera alle 19 tutte le immagini della partita del Pordenone le voci dei protagonisti ma anche continueremo ad occuparci di basket perché oggi è il day after della trasmissione basketiamo che abbiamo visto ieri sera con ospite d'eccezione il coach Matteo Boniccioli che ha richiesto a gran voce insomma di intervenire di essere nostro ospite per parlare anche un po' per mettere a tacere qualche critica che era nata nonostante la vittoria contro Ravenna dal punto di vista mediatico per alcune esclusioni tra cui quelle di Mussini e Antonuti che non hanno giocato una rotazione molto ridotta per Ciccio Pellegrino come accade di consueto il coach Boniccioli non si è assolutamente sottratto alla questione anzi ha voluto spiegare nello specifico quelle che sono state queste scelte la logica di queste esclusioni che hanno fatto molto rumore quindi David ti saluto do appuntamento a tutti al resto della nostra programmazione sportiva e ti lascio le parole di Boniccioli ieri nella trasmissione basketiamo sempre qui su TV12 la decisione dopo la partita molto negativa contro Pistoia è stata quella di accorciare la rotazione ed è ovviamente come diceva Colnago prima una decisione assolutamente contingente nel senso io voglio bene i miei giocatori li stimo per il lavoro che fanno in settimana ma è chiaro che alcune prestazioni non soltanto nella sconfitta contro Pistoia che sono state diciamo così segnalate ai protagonisti mi hanno indotto a pensare di accorciare rotazioni e quindi diciamo i due principali giocatori che in questa situazione ma che a partire dalle prossime partite dovranno darci di nuovo il loro contributo sono stati sottoposti a questo trattamento sono Mussini e Francesco Pellegrino Michele io mi trovo di fronte a una necessità soprattutto nella partita di domenica l'ala piccola della squadra avversaria che aveva portato 100 e supplementari c'è un metro e 90 noi abbiamo introdotto quest'anno una parte di sistema dove non giochiamo più con un playmaker una guardia un'ala piccola una grande un centro ma giochiamo con due guardie due ali proprio per rendere il ruolo di 3 di 4 sostanzialmente analogo dal punto di vista dello sviluppo del gioco però è chiaro che poi c'è un problema di natura difensiva cioè di accoppiamento se io posso chiedere a Gaspardo di difendere contro le piccole i due metri non posso chiedergli se non per metterli in difficoltà di giocare contro un musso che c'è un metro e 89 o un metro e 90 e quindi vado da Michele Antonuti e dico senti Michele siccome Gas sta affrontando un momento non facile perché da persona di grandissima qualità ed eccellente professionista capisce che in questo momento non sta rendendo per quello che lui si aspettava non possiamo assolutamente perderlo e di conseguenza oggi ti chiedo un grande sacrificio cioè non giocare a meno che non andiamo in una situazione di grande emergenza io oggi ho bisogno che tu stia seduto 40 minuti perché nel 4 alterno Itan Esposito e Gaspardo e Michele che è un ragazzo straordinario mi dice Matteo non c'è problema punto e abbiamo finito là Noi ci fermiamo qui vi ricordiamo i prossimi appuntamenti live su TV 12 pomeriggio calcio alle ore 15 l'informazione alle 16 alle 19 e poi stasera ritorna Prime Donne alle ore 21 e 15 con Giorgia Bortolossi intervista da non perdere a Marina Bonazza De Ecker dall'auditorium della Dacia Arena a seguire alle 21 e 45 io sono Friuli Venezia Giulia alla scoperta delle aziende agroalimentari del nostro territorio con Eleonora Nocente ci fermiamo qui le previsioni del tempo e l'augurio di una buona giornata Amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà il ritorno di schierite anche localmente ampie sulle regioni di nord-est anche se nelle prime ore del giorno ancora dovremo fare i conti con parecchie nuvole e la possibilità anche di qualche fiocchettino di neve sulle zone alpine anche se a quota in medio o alte ma entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Pordenone e Udine giornata relativamente tranquilla con appunto anche qualche schierita però al primo mattino copriamoci bene temperatura intorno ai 2-3 gradi come minima massima che sferra ai 10 gradi nei due capoluoghi anche tra Gorizia e Trieste situazione in miglioramento anche qua con qualche apertura in giornata però vi segnalo ancora parecchio vento nel golfo di Trieste vento di Bora per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche poi nei giorni successivi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti